Recuperare come appuntamento formativo per i ragazzi due appuntamenti teatrali è quello che mancava un po' durante questo anno scolastico e grazie anche alla collaborazione con Amat questa idea è diventata realtà. Sono due appuntamenti costruiti insieme alle scuole, il primo legato alla creatività e quindi con l'inceo artistico Mengaroni, il secondo più legato all'identità della memoria e alla cura rispetto alla storia che il nostro territorio ha sempre fatto con il liceo Mamiani. Due appuntamenti che sono però durante le mattine riservati a tutti gli studenti delle scuole superiori di Pesaro con un prezzo molto piccolo, 3 euro, pensato proprio per consentire questa fruizione teatrale al maggior numero di studenti. Sono molto soddisfatta di come le scuole abbiano recepito questa mia proposta di progetto teatrale e questo è soltanto un primo passo verso un progetto più articolato che avverrà nel 2024 con la Capitale della Cultura. Con queste proposte che arrivano in mattina e che sono una novità per Pesaro e per le scuole superiori, tanti sono gli incontri che facciamo qui in città con Oltre la Scena ma questa è l'occasione per gli studenti per incontrare due compagnie di primo ordine, parliamo di Fanny Alexander e quindi di Mara Cerri con l'amica geniale, parliamo di Mar Zabotto e quindi un incontro con la storia in qualche modo e anche con la capacità di indagare la storia, di ricordarla, di non tenerla chiusa in un armadio. Grazie.